Un controllo straordinario per ampiezza del territorio coinvolto e per numero di agenti impiegati è stato disposto questa mattina dalla Polizia Municipale sotto il comando del comandante Attilio Auricchio che ha personalmente seguito le operazioni. Ai 40 agenti che presidiano stabilmente la zona da via Pessina a piazza Trieste e Trento si sono aggiunte infatti sempre nella stessa zona altre 20 unità. Il controllo di via Toledo che sarà reso sistematico nelle prossime settimane ha interessato anche alcune strade dei quartieri spagnoli dove sono stati eseguiti sopralluoghi in alcuni terranei alla ricerca dei depositi di merce contraffatta. Nel corso dei controlli sia in strada che di natura investigativa sono state fermate e denunciate a piedi libero 10 persone per contraffazione, ricettazione e mancanza del permesso di soggiorno e sono stati sequestrati oltre mille pezzi. Intanto il comando della Polizia Municipale fa sapere che sono in netto miglioramento le condizioni di salute dell'agente Immacolata Sannino che nei giorni scorsi era stata aggredita da un ambulante che aveva cercato di soffocarla nel corso delle operazioni di sequestro di merce contraffatta. Dopo il ricovero con 8 giorni di prognosi è tornata nella propria abitazione dove stamattina ha ricevuto la telefonata di auguri di pronta guarigione da parte del sindaco Luigi De Magistris.